Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui con due nuovi giochi che l'Epic Games ha messo a disposizione gratuitamente fino al 22 agosto, fino alle 5 del pomeriggio del 22 agosto mi dispiace di non aver fatto prima questo video perché sono a disposizione già da qualche giorno però avete ancora 3 giorni pieni per poterli riscattare allora, i giochi sono due anche questa settimana, andiamo a vedere il primo e si tratta di Mutant Year Zero Road to Eden allora, di cosa si tratta questo gioco? in pratica comanderete una squadra di 3 elementi c'è un porco, c'è un papero e c'è questa ragazza con la pelle di pietra infatti se non mi sbaglio si chiama proprio così in inglese e la visuale è dall'alto è un gioco con esplorazione libera però quando incontrerete un nemico passerà ad una mappa tattica in cui si gioca a turni avrete varie mosse da fare poi toccherà al nemico e poi toccherà di nuovo a voi insomma, tipo così ci sono anche, diciamo, zone in cui bisogna essere molto stealth diciamo, bisogna evitare il combattimento quindi dovete stare attenti vabbè, è un gioco molto vario insomma, che credo abbia avuto un discreto successo a livello di vendite e comunque ragazzi, è gratis risparmiate ben 35 euro che costa 35 euro questo gioco perché non metterlo in libreria? ok, passiamo al secondo gioco allora, il secondo gioco è i Hyper Light Drifter non so moltissimo a riguardo l'ho visto qualche video insomma è una grafica molto retro che ricorda molto i primi Zelda insomma, anche penso il tipo di gioco somiglia molto ai primi Zelda è un GDR comunque quindi magari, vabbè, ci sono le immagini che state vedendo adesso fatevi un'idea insomma, dovrebbe essere carino per i nostalgici almeno dategli un'occhio comunque ragazzi, sono sempre giochi gratis quindi, ripeto ancora una volta mettetevi in libreria se un giorno avrete voglia di giocarci lo potrete fare e anche qui il costo del gioco anche se mi sembra un po' eccessivo è di 16 euro quindi andrete a risparmiare ancora tanti soldi vabbè ragazzi io mi fermerei qui mi dispiace ancora di non aver fatto prima il video però purtroppo non è che sto sempre qua attaccato siamo in estate quindi ci sta vi ripeto, ancora una volta avete tempo fino al 22 agosto fino al pomeriggio in oltrato del 22 agosto quindi avete tutto il tempo per riscattarli e se volete giocarci, li installate basta metterli in libreria comunque non c'è bisogno di scaricarli per forza poi quando avrete voglia di giocarci lo farete vabbè, io spero di esservi stato utile come sempre un like se me lo sono meritato iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e noi ci vediamo al prossimo video ciao